Oh buona giornata a tutti ragazzi, allora dopo le 6 partite significative della stagione parliamo e passiamo ai 5 momenti più goduriosi della stagione 2017-2018 per un tifoso ovviamente Gobbo allora partiamo subito, anzi prima di partire con i 3 momenti goduriosi vi ricordo di se interesseranno ovviamente magliette per quanto riguarda magliette nuove per la prossima stagione sciarpe, maglie dell'anno scorso, maglie di anni fa e quant'altro vi ricordo il sito calciabassocosto.it sotto in descrizione, sotto anche il mio codice sconto per avere il 10% di sconto Dani Gobbo tutto attaccato e tutto minuscolo, mi raccomando andate in questo sito qui perché è veramente ottimo e vi ripeto non vi lasciano a soli adesso ad esempio come ho detto l'altra volta ci sono alcuni ritardi per le maglie nuove perché è normale insomma c'è stato il boom di richiesta quindi stanno un po' ritardando però poi si smuoverà sicuramente la situazione comunque tornando a noi, i 5 momenti più goduriosi di questa stagione per un tifoso Gobbo allora io partirei subito dal quinto posto, era dicembre, l'ho messo anche l'ho messo nelle 6 partite più significative per quanto riguardava appunto questa stagione qui e metto anche al quinto posto, anche nei momenti appunto goduriosi Napoli 0, Juventus 1, Gonzalo Higuain perché ovviamente Higuain che ti fa vincere a Napoli è una goduria pura qui anche il tempo si incazza comunque, è napoletano anche il tempo vabbè comunque detto questo sì, Napoli-Juventus 0-1 con il di Gonzalo Higuain sicuramente è stata una goduria pura al dodicesimo se non sbaglio mamma mia vabbè per i napoletani è stata invece una bella batosta da digerire un bel boccone amaro da buttare giù perché comunque appunto perdere una partita in casa contro l'avversario storico per loro ovviamente per noi no però per loro siamo non so chi vabbè ci danno più importanza loro alla fine comunque vabbè e poi perdere 1-0 in casa contro appunto la rivale storica per loro sempre con un gol del tuo ex tanto insultato, denigrato, infamato e quindi sicuramente una grandissima inculata per loro una grandissima goduria per noi andiamo al quarto posto al quarto posto io metterei Lazio 0-1 Juventus con gol di Dybala 92-93 quello è stato veramente un gol che ci ha fatto alla fine superare il Napoli e da lì ci siamo rimasti i primi fino alla fine ed è questo probabilmente il pregio che ha questa squadra nonostante le mille difficoltà che appunto quando la Juventus passa prima è difficilmente ribaltabile la situazione quindi una volta superato il Napoli insomma un po' tutti avevamo la sensazione che poi sarebbe stato difficile per il Napoli anche se poi abbiamo rischiato parecchio comunque quel gol lì è stata veramente una goduria pura il 93 partita brutta giocata male sofferta abbiamo rischiato anche di fare il gol ma anche di prenderlo rigore non dato a noi rigore non dato a loro e poi Dybala si inventa probabilmente il gol più decisivo della sua carriera questo qui non solo della stagione ma della sua carriera se l'ha inventato ha detto vabbè bisogna vincerla per forza e la vinco io l'unica volta che ho visto Dybala prendersi veramente la squadra sulle spalle e portarla a una vittoria molto importante bene al terzo posto al terzo posto metterei Roma 0 Juventus 0 perché perché come intitolava tutto sport a dicembre poi discorso il titolo da Conscesni, Pianici e Benatia da 3 romanisti perdenti a 3 juventini vincenti lì ci fu il clamore anche da qualche appunto youtuber qui appunto su youtube poi altri romanisti giornali di Roma che poi loro parlano tanto poi fanno ancora più fanno ancora titoli ancora di più vergognosi vabbè comunque lasciamo questo e di fatto sono passati perché poi dicevano sì ma l'unico ad aver vinto è stato Benatia perché gli altri Scesni e no Pianici era stato perché Benatia e Scesni hanno vinto poco o nulla con la Juve non ha vinto nulla Scesni questo e l'altro quindi è anche un titolo inutile falso perché non sono vincente e poi vincere 3 giorni prima 4 giorni prima la Coppa Italia a Roma e poi vincere lo scudetto in casa della Roma domenica è stato veramente siccome è una grandissima goduria assolutamente vabbè comunque questo sicuramente al terzo posto ci va al secondo posto al secondo posto ovviamente Inter 2 Juventus 3 per tutte le polemiche che sono arrivate poi per la falsa informazione che fanno perché ovviamente in quella partita lì la Juventus è stata più danneggiata che favorita poi invece è passato come sempre il messaggio opposto perché vi ripeto vi ricordo due rigori non dati da Juventus un'espulsione non data su Skriniar e ovviamente sì c'è un'espulsione su Piani e ce l'ho andata comunque tre episodi contro con uno a favore alla fine vabbè comunque a parte questo la goduria in sé del di una partita anche lì giocata male sofferta sei sopra di un uomo sopra di un gol e ti fai ribaltare la situazione sembrava veramente una partita nata male indirizzata peggio e come ha detto che lì alla alla metà del secondo tempo alla fine si aveva un po' tutti la sensazione di aver perso questo scoglietto poi in 5 minuti cambia il mondo in 5 minuti autogol su grande secondo me lì c'è stata veramente una grande invenzione di Bala per Quadrado che poi ha fatto un tiro un cross non so è stato deviato e poi è andato è andato dentro il pallone e poi ovviamente il gol di Gonzalo Higuain anche in quella partita lì è stato decisivo importantissimo e praticamente è inculato in una sola partita anti-juventini in generale interisti e napoletani quindi è stata veramente una goduria pazzesca veramente pazzesca poi poi al primo posto mettiamo una serata che è la stessa serata di Inter-Juventus ragazzi al primo posto non si può non mettere l'albergo l'albergo di Firenze che ospitava il Napoli perché se noi abbiamo vinto lo scudetto è grazie a quella serata ma non per Inter-Juventus ma per lo scudetto perso in albergo cioè noi dobbiamo ringraziare infatti quella serata ho goduto molto di più poi per dopo aver saputo appunto che il Napoli aveva perso lo scudetto in albergo ho goduto il triplo ho detto cazzo questi qui hanno vinto un casino di scudetti e possono permettersi anche di perderne uno in albergo cioè impressionante io veramente quella serata me la ricorderò soprattutto per lo scudetto perso in albergo dal Napoli e poi il giorno dopo prima di partire sì dopo Fiorentina Napoli sono tornati in albergo a cercare questo scudetto e non lo trovavano l'hanno trovato poi dopo due settimane appunto a Roma per Roma Juventus nell'albergo della Juventus alla fine comunque ragazzi questi sono secondo me i cinque momenti più goduriosi della stagione gobba di noi gobbi veramente siamo veramente felicissimo di questo scudetto questa enesma inculata questo scudetto ripeto vale tantissimo perché ci davano tutti per morti ci davano tutti tutti tifavano Napoli e poi ancora a parte la Coppa Italia ancora nel culo un'altra volta questa volta ci credevano davvero e l'hanno preso in culo senza vasellina senza vasellina e fa ancora più male e soprattutto ripeto il Napoli avrà questo grandissimo rimpianto nella storia di aver perso lo scudetto in albergo se bastava trovarlo lì e avrebbero vinto quindi questo rimarrà veramente un rammarico per i tifosi giocatori tesserati in generale del Napoli detto questo ragazzi fatemi sapere i vostri momenti più goduriosi di questa stagione io l'ho detto e niente vi auguro buona giornata a tutti e poi probabilmente ci vedremo per il video dell'ufficialità di Perin se firmerà oggi buona giornata a tutti e fino alla fine forza Juventus ma i campioni dell'Italia siamo noi però bisogna ringraziare sempre e comunque il signor Maurizio Sarri e i giocatori del Napoli che hanno perso lo scudetto in albergo perché senza quella perdita senza quella dimenticanza dei napoletani dei giocatori del Napoli dell'allenatore del Napoli probabilmente anzi sicuramente avremmo perso quello scudetto quindi grazie Maurizio è stato l'ultimo regalo che ci hai consegnato prima di andare via da Napoli quindi di fatto sei un nostro alleato buona giornata a tutti e fino alla fine forza Juventus